signori ancora buonasera a tutti so che vi state godendo un momento molto bello come quello della cena ma adesso è venuto il momento di alcuni saluti molto importanti per la giornata di oggi quindi non vi annoio invito subito a salire sul palco il presidente a ramma nukhiana con un applauso ovviamente allora sarà un breve saluto visto che al termine della assemblea privata non c'è stata un'occasione per fare un saluto a tutti i nostri ospiti è stata una circostanza eccezionale noi di confindustria como non avevamo mai visto un'assemblea neanche quella privata che di solito è fatta sempre da i pochi frequentatori ma addirittura quella pubblica con la presenza di quasi un migliaio di persone per cui da parte mia e da parte del consiglio generale tutto l'organo diciamo di confindustria un ringraziamento veramente caloroso a tutti i nostri ospiti che so che non amano tutti non tutti loro che si sono fermati ma generale ecco tendono così a venire a portare un loro saluto ma poi a ritirarsi ecco il fatto che si sono fermati per tutto questo tempo è stato veramente molto apprezzato e quindi è degno di una celebrazione del nostro centenario per cui un ringraziamento veramente affettuoso a tutti e poi come vuole il nostro programma visto che adesso c'è un po di musica dovevamo anche un pochino anche un pochino stringere no perché sennò facciamo facciamo troppo tardi adesso ci sono ci sono altri saluti intanto grazie al presidente questa è la testimonianza che c'è stato un grande coinvolgimento anche da parte vostra nei confronti di tutte le persone che sono qui stasera tra loro c'è anche il vice presidente di confindustria stefan pan a cui chiedo di venire sul palco prima di passare il microfono stefano voglio ringraziarlo personalmente perché lui è il vice presidente del presidente nazionale di boccia quindi per noi di confindustria è l'autorità più alta no della della presenza di questa sera con vincenzo ci siamo sentiti al telefono lui si scusava ma oggi era forse a napoli non lo so dove fosse quindi sono molto rallegrato con te perché sei venuto non so se sei venuto da roma o dall'alto asine da volzano lui da volzano e quindi un veramente un grazie di cuore stefano a te la parola grazie a te una bellissima serata che tocca il cuore e quando a ram mi ha chiesto due settimane fa guarda riusciresti a venire da noi ho detto guarda ho già in programma alcune cose ma per venire a como scombustolo tutto l'ho fatto e sono contentissimo di averlo fatto vi porto i saluti di tutta la confindustria siamo tutti confindustria e venendo e avendo sentito anche avendo visto il filmato che avete fatto e avendo sentito a ram nel dialogo che ha sostenuto in modo modo eccezionale anche lì si è riuscito a toccare il cuore con parole semplici e abbiamo bisogno di parole semplici se siamo veri imprenditori e imprenditici abbiamo quella capacità di toccare il cuore e quello è quello che ci fa crescere le ali e quindi aprire quello che hai detto tu trovare la fiducia mettere la fiducia al centro il bellissimo il passaggio di oggi del non del bip ma del fip della della fiducia che crea i veri valori e venendo qui e sentendo queste cose ho pensato qual è il messaggio che posso dare a un'associazione che compie cent'anni quindi non è il solito anniversario importante che quello ma è un anno particolare e ho pensato e pensato e poi ho pensato che il bene più grande che abbiamo è la libertà la libertà di impresa che ci permette di spaziare che ci permette di costruire la società che ci permette di raccontare che quello che facciamo nella nostra azienda una valenza che va molto oltre la nostra nostra impresa quello che hai già detto tu e ho pensato che in questo tempo nel quale viviamo si ripetono le cose e quello che abbiamo già visto cento anni fa porto può tornare può ritornare come perché molte cose che sembravano scontate non sono più scontate la libertà non è scontata i muri ci sono e crescono quindi abbiamo i cento anni servono proprio dare questo messaggio un compito e tu l'hai rappresentato in modo eccezionale di rifare quello che hanno fatto i padri le madri fondatori fondatrici e riprendere in mano il destino del nostro paese del nostro continente dando quella forza che solo le imprese possono dare noi siamo moltiplicatori noi siamo quelli che riescono a creare dei mondi surreali perché molti sono reali ma molti non sanno che ci sono tanti giovani non sanno che abbiamo delle eccellenze straordinarie parlavo prima al tavolo se tra di noi imprenditori quando giriamo entriamo nelle aziende rimaniamo di stucco dicendo non avrei mai pensato che in questa azienda si può fare tutte queste cose incredibili pensate come fanno a saperlo quelli che non sono nel nostro giro quindi dobbiamo uscire dobbiamo aprire e dobbiamo farlo raccontando tornando a ricontare e ripetere le cose che ci servono veramente la libertà penso sia la più 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 importante di tutte la libertà di impresa e rivedendo quel quello che avete raccontato oggi che dimostrate quando giro l'italia in confindustria della delega delle regioni quindi coordino di tutte le confindustria regionali e ogni 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 volta che entro in una in un'azienda di tutto il territorio sempre la stessa esperienza guarda non avrei mai pensato e torno con un bagaglio di forza di spirito nuovo carico carico come torno anche oggi carico carico della vostra esperienza e chiudo con una citazione che riguarda proprio questa questa libertà in un discorso famoso discorso di pericle rivela un segreto il segreto il segreto della felicità sta nel coraggio e il coraggio è quello di cui abbiamo bisogno più di più di più di tutti quello che ti auguro per la tua presidenza il coraggio che serve per raccontare che siamo un attore sociale che abbiamo un ruolo importantissimo della nostra società che insieme possiamo costruire un'italia più forte un'europa più forte che non abbiamo paura la paura è una pessima consigliera ma abbiamo il coraggio per cambiare le cose quindi tanto coraggio tanta forza con tutta la sua squadra di presidenza con questa associazione che meravigliosa che ha fatto ha dimostrato che ha fatto un centenario un centenario favoloso ai prossimi cento anni grazie un bellissimo un bellissimo augurio e adesso chiamo un'altra persona venire qui sul palco che è presente questa sera il presidente di confindustria a lecco e sondrio lorenzo riva un applauso anche per lui grazie c'è anche una sorpresa buonasera a tutti ciao ram insieme abbiamo raggiunto forse un sogno poco tempo fa ci abbiamo creduto abbiamo fatto l'unione di camera di commercio di l'ecco e como ed è una cosa che ci abbiamo lavorato insieme ci abbiamo creduto e siamo arrivati a questo obiettivo che è un obiettivo importante e strategico per le nostre due province per le nostre poste io ho un regalo per te se lo apri ti faccio ti illustro quello che è il cammino io mi sono intruffolato di nascosto nella nella vostra assemblea privata e ho visto con piacere vi ho ascoltato vi ho guardato ho visto con piacere che i cent'anni non era un cerchio chiuso ma aperto e allora abbiamo iniziato l'anno scorso un percorso insieme abbiamo fatto la prima assemblea pubblica insieme che è stata una cosa stupenda bellissima che unisce i nostri due i nostri due territori i nostri due territori sono legati da un lago questo è del 1500 fino al 1500 ed è un percorso che ci porta che ci porta a a vedere una visione magari insieme nel futuro io te lo so che ci crediamo crediamo in queste cose io ti auguro di cuore veramente un successo incredibile e ricordati che i tuoi cugini ci sono saremo rivali nel calcio perché ci sarà un derby e vinceremo noi mi dispiace però è così no ma allora intanto lorenzo sei sei molto caro e quindi grazie mille per per il regalo devo dirti la verità che l'avrai sentito intrufolandoti nella privata che il mio concetto è aprire, abbracciare, allargare quindi per me che il nostro lago si chiami il lago di Como di qua e il lago di Lecco di là a me non mi è mai tornata insomma anche perché ho sempre studiato a scuola che abbiamo un lago solo e quindi auspico diciamo che questo segnale, questo quadro possa essere il primo mattoncino per andare verso invece un'intenzione di lavorare assieme sotto tutti i punti di vista quindi grazie mille grazie a te, buon lavoro chiediamo al direttore regionale d'intesa San Paolo Gianluigi Venturini di solire con noi sul palco bene grazie, per me è un privilegio veramente poter essere qui stasera mi è stata offerta veramente un'opportunità grande e piacevole di poter portarvi in saluto della banca di tutto il gruppo che fa la propria presenza su Como sapete che la direzione regionale per la Lombardia di intesa San Paolo è proprio qui a Como e quindi questo ci consente di condividere tantissime circostanze, tantissime opportunità, tantissimi problemi tantissime cose che si possono fare assieme, risolvere assieme con gli amici di Confindustria Como e quindi quando è stato possibile valutare di fare insieme un tratto di strada sono stato veramente attratto dall'idea ne abbiamo parlato e rapidamente abbiamo raggiunto l'idea che si potesse effettivamente condividere molte delle cose che ho sentito dire anche da Aram durante il bellissimo intervento che ha caratterizzato il pomeriggio di oggi è stato pieno di stimoli, di suggestioni e c'è tutto quello che anche si è vissuto stasera cioè familiarità, senso di amicizia e voglia di affrontare i temi rilevanti di un territorio che ha una fortissima tradizione, una lunghissima tradizione e un grande futuro come diceva il claim dell'assemblea di questa sera sul capitale umano in particolare mi piace l'idea che si possa fare molte cose insieme perché la banca è quella che tutti voi conoscete che parla di credito, di finanza, di pagamenti e di incassi ma l'abbiamo imparato con Confindustria bisogna occuparsi anche di molte altre cose per aiutare le aziende a rendersi forti e l'abbiamo imparato proprio con una Confindustria che nei momenti peggiori della crisi ci aveva stimolato a guardare alla completezza dell'impresa e non solamente ai numeri freddi di un bilancio oggi siamo ancora molto legati al regolamento ma siamo anche molto trascinati a pensare, a riflettere su tutti i temi che sono stati evocati in maniera così significativa questa sera e quindi sarà bello nei prossimi tempi parlare assieme di formazione, di innovazione di circular economy, di tanti altri aspetti di internazionalizzazione di digitalizzazione, tutti i temi che faranno il futuro e la solidità e il successo delle vostre aziende e noi siamo qui a confermare il nostro impegno in questo e a metterci tutta la passione con cui possiamo collaborare e cooperare con Confindustria l'augurio ad Aram e a tutta la sua squadra è di non perdere un singolo grammo della passione stessa con cui hai condotto noi tutti nel percorso di questo pomeriggio che è stato insolito, bello e appassionante e quindi grazie ancora di questa opportunità e in bocca al lupo a tutti un grazie sincero veramente al dottor Venturini e alla banca perché va riconosciuto che quando con il direttore Regazzoni abbiamo chiesto di esserne main sponsor e col dottor Venturini in qualche modo in maniera anche così di slancio non si è ritratto e è venuto incontro al nostro invito e al quale il dottor Venturini come ho detto poc'anzi prima cena ecco io torneremo, cioè con la banca vogliamo anche intraprendere delle iniziative come Confindustria Como quindi lavoreremo sicuramente assieme prima però di lasciare il palco ecco mi necessita la ricorrenza di ricordare che nel centenario naturalmente io sono il presidente del centenario ma prima di me mi hanno preceduto molti presidenti per i quali però molti non ci sono neanche più evidentemente però ecco abbiamo praticamente la necessità di rivolgere come dire un calorosissimo applauso a tutti i presidenti che naturalmente adesso scorreranno con i loro nomi sul video wall ecco durante questa scorsa di nomi che tutti loro in parte ricorderanno va ricordato che chi come me raccoglie questa eredità ha evidentemente un vantaggio in quanto lui praticamente il piccolo presidente del centenario io lo vedo come su un grande come dire gigante di cento anni che naturalmente è sotto di me e mi dà il grande vantaggio diciamo di vedere lontano perché il gigante dei cento anni mi dà come dire le sue ampie spalle e quindi mi consente io sono piccolino ma mi consente naturalmente di vedere lontano e quindi grazie alla loro esperienza al loro coraggio alla loro anche insomma pionieri alcuni di loro ecco noi oggi siamo qui a poter appunto aprire lo sguardo verso il futuro ricordiamoci il quadro grazie presidente grazie a tutti i presidenti passati grazie a queste interventi grazie a tutti i dati